In questo video tratterò in breve del valore che assume il battesimo negli scritti di San Paolo, l'apostolo che è passato alla storia nella tradizione della Chiesa col titolo di Apostolo delle Genti, cioè apostolo di tutti coloro che non conoscevano nulla della parola di Dio, degli insegnamenti che essa ha trasmesso come eredità a tutta l'umanità. È forse proprio grazie all'esperienza personale di questo apostolo così originale di cui soprattutto San Luca ci ha trasmesso la testimonianza nel Libro degli Atti degli Apostoli. Ecco proprio soprattutto grazie a questa esperienza che questo apostolo ha avuto che oggi siamo in grado di affermare quanto sia importante il pensiero teologico inteso sempre come un processo innovativo fondato proprio dall'esperienza che San Paolo ci trasmette, un pensiero che si mette in dialogo con le diverse culture anche non credenti come una sfida alle barriere culturali e culturali che una religione può assumere e può mettere in piedi. Quello Paolino è un pensiero che fa della fede un punto d'incontro nella novità, nel superamento dei confini anche intellettuali sulla realtà di Dio e del mondo. L'esperienza della novità di vita che Cristo inaugura nel cuore dell'uomo introducendo la sua luce che apre alla conoscenza interiore nuova della realtà rappresenta proprio la base di una riflessione teologica sul battesimo che ci offre San Paolo che è capace di offrirci una dimensione universale che è propria della fede cristiana. Conosciamo allora la testimonianza di Saulo, di Tarso, il fariseo convinto, abbagliato poi dalla luce dello Spirito Santo, folgorato dalla voce del risorto sulla via di Damasco, chiamato per nome per ben due volte, Saulo, Saulo perché mi perseguiti? Io sono Gesù che tu perseguiti, alzati, entra nella città di Damasco e là ti verrà detto quello che dovrai fare. Ecco, accecato dalla luce, dalla luce di Dio, dello Spirito, Saulo attende il credente Anania che ha ricevuto a sua volta in sogno il Signore perché si recasse da lui a pregare per Saulo. Guarito dalla cecità per la preghiera di imposizione delle mani di questo semplice credente di Anania, Saulo chiede il battesimo. Questo particolare di questa testimonianza ci comunica tutta la gratuità che esprime il dono del battesimo nella vita di Sauro, di Paolo, dono che si riceve da credenti e che si accoglie proprio come credenti, cioè come qualcuno che desidera rispondere a un Dio che interviene nella vita, nella storia, nella carne di una persona. È grazie al battesimo quindi che Saulo cambia nome, cioè cambia identità. Non è più quel commerciante ambizioso, impegnato in politica anche, in questioni sociali, religiose, controverse, che si serve della fede di Dio per ottenere i suoi scopi e anche incrementare la propria ambizione. Non è più tutto questo. Ecco, l'esperienza della vicinanza nella preghiera di un semplice credente in Gesù risorto, che è Anania, cambia la visione delle cose in Sauro. Ci vede attraverso una luce nuova, riesce a vedere le cose a partire da una luce interiore che gli rivela ha il senso profondo delle cose stesse. Per questo il battesimo segna in lui un vero e proprio passaggio di identità. Il grande Saulo diventa Paolo, che in latino vuol dire piccolo. La luce nuova del battesimo lo fa passare dalla logica dell'ambizione alla logica del servizio, del dono, della valorizzazione dell'altro, del dialogo, del farsi piccolo con i piccoli. Questo passaggio ha fatto di Paolo il grande apostolo delle genti, la cui vita è stata tutta orientata a generare altri credenti in Gesù, altri fedeli, altri apostoli come lui. Alla luce di questa sua esperienza di vita, allora ogni parola di San Paolo sul battesimo si riveste di grande autorità, perché l'apostolo Paolo non fa discorsi astratti, non parla di cose che ha studiato, ma al contrario orienta tutto ciò che lui ha studiato all'esperienza di fede che ha determinato la sua vita. Per questo Paolo nella sua teologia assegna uno spazio importantissimo al battesimo, nonostante la sua dichiarazione che Cristo non lo ha mandato a battezzare ma a evangelizzare, ecco, possiamo dire che l'esperienza del battesimo resta comunque centrale nella vita di Paolo. Il testo più rilevante e centrale della concezione del battesimo, Paolino, si trova nell'Epistola ai Romani, al capitolo 6, versetti dall'1 all'11, che appunto si esprime con queste parole. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita, poiché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Ecco, con queste parole Paolo, San Paolo afferma la sua originale concezione del battesimo. Ci dice che essere battezzati nella chiesa cristiana significa essere battezzati in Cristo, cioè essere immersi nella relazione con Cristo ed è forte il linguaggio che accosta la vita in Cristo al battesimo nella morte di Cristo. Un linguaggio che impatta con la nostra sensibilità, lo dobbiamo ammettere, ma che ci rivela un mistero profondo. Il credente attraverso la fede si appropria dei meriti di Cristo, si appropria della vita, dell'amore, del dono di Cristo e quindi di questa potenza di amore che si attua nella morte salvifica di Cristo. Il battesimo ha come esito allora questa unione d'amore forte con Cristo, unione stretta che è messa in risalto con i termini composti, proprio in greco, con la preposizione con. Al versetto 6, sempre capitolo 6, al versetto 4, scusate, Paolo ci pone una parola che è composta con la preposizione con, ci dice con sepolti con Cristo, così come al versetto 5 ci dice con uniti con Cristo, e così anche al versetto 6, crocifisso con Cristo, ecco questo giocare sulla preposizione con, e anche al versetto 8, morti con e destinati a vivere con Cristo, ecco questo ripetersi di questa particella sinning greco con insieme a, l'essere con Cristo sempre, ecco questo prende il suo inizio nel battesimo e dura nella vita quotidiana di ogni credente e presuppone che un giorno tutti i credenti in Cristo saranno uniti a somiglianza della sua resurrezione. Per questo il battesimo ci immerge nella morte, non perché il cristiano muore con Cristo, ma è il vecchio uomo come dice lui, cioè l'uomo che era prima del battesimo e qui c'entra tanto la sua esperienza di vita, no? Come dicevo all'inizio, la sua testimonianza. L'uomo che si è reso vittima e perciò anche complice del peccato, è lui che muore per dare spazio alla nascita dell'uomo nuovo, l'uomo rinato, nato dalle acque del battesimo, che vive in Cristo per servire Dio e gli altri nella libertà. Il battesimo ci assicura che saremo quindi anche noi risorti con Cristo, perché attua una resurrezione presente dentro la persona, un cambiamento che implica già ora un modo di vivere nuovo, diverso, conforme alla grazia ricevuta e che quindi ci proietta nell'eternità. Così San Paolo introduce i credenti della comunità a delle considerazioni che fondano la sua teologia battesimale. Ne consideriamo ancora altri due, no? Nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetti dal 26 al 29, scrive proprio testuali parole. Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Ecco, si tratta di un passo tratto dalla lettera ai Galati in cui Paolo parla ai cristiani provenienti dal giudaismo e si pone anche in una posizione un po' polemica contro di loro, perché questi avevano elevato la circoncisione a condizione di salvezza. Infatti, mentre Paolo afferma che la salvezza è anche per i non circoncisi, perché avviene attraverso la fede nella promessa di Dio, che è valida per chiunque creda in lui. Coloro che sono battezzati in Cristo, ci conferma San Paolo, si sono rivestiti di Cristo, sono stati rivestiti di Cristo, perché come l'abito aderisce al corpo, così la vita di Gesù si intreccia con la vita del battezzato, diventando una sola cosa con lui. Questa immagine di essere rivestiti di Cristo come di un abito ha servito come base per la tradizione che si è poi sviluppata successivamente, secondo cui il catecumeno, cioè colui che si preparava al battesimo, che quindi era, e anche il neofita, cioè il nuovo battezzato, indossava la veste bianca. Un altro passo fondamentale per la teologia paurina si trova nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 13. Infatti, scrive San Paolo, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Questo passo spiega come ogni credente, in modo misterioso, profondo, secondo l'opera dello spirito, diventa corpo di Cristo, attraverso l'opera dello Spirito Santo che agisce nel battesimo, in questo atto profondo di fede. Per l'opera dello spirito si instaurano due relazioni, due realtà, che non devono essere né confuse né separate, ma entrambe concatenate in qualche modo, no? Una dentro l'altra. La prima è la relazione di unione con Cristo e poi la relazione con la Chiesa. Nel battesimo si realizza questa duplice dinamica dello spirito, l'incorporazione a Cristo che determina l'inserimento del battezzato nella comunità e si qualifica quindi come corpo mistico di Cristo, di cui Cristo appunto è il capo. L'inserimento appunto del cristiano dentro la vita di Cristo è un qualcosa di armonioso, di corporeo, di vitale. L'insegnamento che San Paolo ci offre è quindi fondamentale. Per lui il battesimo è la piccola resurrezione di quell'uomo vecchio prima chiuso all'influsso dello Spirito, dominato dalla forza che lo separa da Dio, perciò frantumato nel suo essere interiore. Battesimo allora è segno del risorto, dei risorti che vivono la vita segnati da Cristo, passando attraverso la sua morte, la sua Pasqua. Per questo Paolo non ha paura di dichiarare dopo il suo battesimo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. Lo scrive ai Galati al capitolo 2 versetto 20. Il battesimo allora è il dono di questa esperienza concreta che si fa attraverso la fede, non più io ma l'altro. Il mio io inserito nel tutti Dio in Cristo non viene perso ma trasformato, purificato, aperto e acquista un nuovo spazio di esistenza. Per questo il nostro io liberato dal suo isolamento diventa apertura, relazione, attenzione all'altro, non più io. Questo è il fondamento della novità cristiana, la formula dell'esistenza cristiana fondata nel battesimo. A questo sono chiamati tutti i credenti perché il dono del battesimo ci aiuta a vivere la gioia della condivisione, la fraternità che è il segno vivo di una fede autentica. Allora concludo questo approfondimento con altre parole di San Paolo che ci aprono il cuore ad accogliere sempre di più in profondità la gioia del dono e che siamo gli uni per altri. San Paolo scrive se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove. Ecco ripetiamoci spesso queste parole, queste come le altre che sono state indicate in questo approfondimento perché quando siamo scoraggiati di noi stessi o anche delusi degli altri tenendo nel cuore queste parole noi ritorniamo al dono del battesimo perché il battesimo sia anche per noi come lo è stato per San Paolo non tanto il ricordo di un evento così importante che ha determinato un passaggio nella nostra vita ma un dinamismo sempre vivo, sempre attuale che ci immerge sempre di più in modo nuovo, sempre più profondo, ogni giorno di più nella gioia di appartenere a Cristo, nella gioia di appartenere non più a noi stessi ma a Cristo Gesù che ci ha amati e ha dato se stesso per noi.